Io ho deciso di fare un'ordinanza che ho firmato oggi a mezzogiorno, è già operativa, nella quale ho detto che per evitare che ci sia comunque un contagio autorizzo i soggetti che forniscono beni dei tipi consentiti di poter fare la consegna a domicilio anche con mezzi che non rientrano in quelli che la legge ordinariamente gli consente di utilizzare. E ho usato un concetto come dire di buonsenso, la legge è stata scritta per un paese che è in un momento di pace, noi non siamo in tempo di pace, siamo in tempo di guerra. Alla fine una soluzione è stata trovata, la polemica sulle consegne a domicilio infatti si era accesa nelle ultime ore in quanto il codice della strada consente sì la consegna a domicilio delle merci ma solo con l'autocarro, una problematica con la quale si erano scontrate le molte attività commerciali che in questa situazione di blocco si erano attrezzate per poter consegnare la merce soprattutto in vista delle festività pasquali. Le consegne a domicilio possono fare tutte le attività commerciali che sono chiuse, che fanno una PEC all'ufficio SUAP in cui danno la loro disponibilità a fare queste consegne. Per quanto concerne sempre la norma che ha dato così tanto adito a discussioni, le consegne a domicilio si possono fare con determinati veicoli della categoria N1. Ma visto che il codice della strada è stato inserito in una situazione di normalità, quindi in cui non c'era il coronavirus e quindi le chiusure di tutte le attività e quindi la possibilità di mettersi in regola, il sindaco ha ritenuto già in maniera molto esplicita di fare un'ordinanza in quale chi fa la richiesta può le derogare al codice della strada. Nell'ottica di poter far passare le festività di Pasqua in maniera tranquille però a tutte le persone in casa, è quello che noi ribadiamo come Polizia Municipale, le persone devono restare in casa. Vediamo sempre più spesso sulle stade di controllo, gli arretti che sono andati a confinare. Secondo la mia opinione potrebbero fare molto meglio, ancora c'è una percezione del pericolo del contagio non totale, quindi c'è una sensazione generale che in alcune ore della giornata si possa andare a fare il jogging senza problemi, si possa portare il cane otto volte fuori, si possa fare la girata con le biciclette. Quello che si chiede noi e facciamo l'ultimo sforzo arriviamo al 30 aprile in maniera tale che si possa ripartire con tutte le attività precedenti.